A rischio la continuazione dei lavori sulla 640 aumenta il costo del materiale. L'asfalto ha aumentato del 600% circa. Parla Salvoferlito, a capo dell'impresa che ha effettuato i lavori. Abbiamo chiesto un preventivo dei tubi, dice, e hanno dato un preziario valido soltanto per tre giorni. Adesso con l'aumento dei costi pare siano saltate tutte le previsioni rispetto ai tempi di completamento dell'opera. Tra l'altro pare che molti materiali non arrivino in tempo. Nessun imprenditore lavora, se ci rimette del denaro ovviamente. Il governo intanto è intervenuto per compensare in parte il rincaro dei materiali del 2021. Se i prezzi continueranno a salire i problemi non mancheranno. Al momento ci sono dei rallentamenti e ANAS sta comunque monitorando la situazione.